Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo è il video tutorial che ho appena finito, vi faccio alcune foto, non so ovviamente se metterle all'inizio o alla fine del video, quindi godetevi il tutorial, noi ci vediamo dopo, vi faccio vedere anche l'outfit, ciao! Grazie a tutti! 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 ti mando un bacio, questi orecchini, ho fatto la treccia perché non mi va di fare i capelli lisci, tradizionali e tutto, ho una camicia viola sotto e questa giacchettina, questo maglioncino così aperto, metà maglia e metà tessuto normale cotone e di sotto i pantaloni blu e scarpe blu, sono stanchissima, e niente ragazzi questo è tutto, vi metterò anche delle foto, spero che il video vi sia piaciuto, le mie labbra vi saranno piaciute, io devo scappare perché sicuramente di là già stanno orlando perché sarà pronto, sono le 12.57, mi uccideranno sicuramente, niente ragazze cosa dirvi di più, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ciao!